Mi chiamo Gaia e che dire, la cosa più importante in questo momento è che mi sto sposando. In realtà parlando anche con gli adulti già sposati o no, insomma, la cosa che emerge è che non si può fare così presto perché da un punto di vista economico non c'è nessuna sicurezza e dal punto di vista proprio delle relazioni neanche.